Ti sei mai chiesto se puoi cambiare il destino? Se hai il coraggio di scegliere la strada giusta e cadere tentando di provarci? La tua famiglia è stata sterminata, il tuo popolo ha annientato, le tenebre stanno incorrendo e l'unica cosa tra loro è il trono, sei tu. Il tuo nome è il lupo solitario e il futuro del regno è nelle tue mani. Scegli il dragone, ogni giorno potrai compiere una scelta e in tal modo portare avanti la tua avventura. Scegli l'aquila per fuggire, ma sei pronto a lasciare il tuo mondo nelle grinfide terribili, signori delle tenebre?